Bentornato negli studi di Temporadio al Presidente di Adici, di nuovo con noi, Alessandro Gallesi. Bentornato Presidente. Grazie, buongiorno. Gli ascoltatori sono invitati a partecipare alla trasmissione. Diamo le coordinate per interagire, il numero per mandare sms e i messaggi whatsapp, il 338 17 19 105. Per telefonarci fatelo 037663 17 09, indirizzo mail diretta a chiocciolatemporadio.it. Vi invitiamo anche ad utilizzare la pagina Facebook, quella di Il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, Presidente, io so che lei vuole parlare della crisi dei filati, giustamente, visto che è soprattutto di come è stata affrontata la questione anche nel mondo dell'informazione. Ma allora, crisi dei filati o crisi delle vendite, nel senso che chi produce il filo evidentemente è a monte di una filiera. Purtroppo, quelle che sono state le cifre molto negative che abbiamo dato nei mesi scorsi sull'andamento delle vendite, si stanno poi chiaramente concretizzando in situazioni di crisi che i giornali locali hanno riportato nei mesi scorsi, sia ad agosto o anche pochi giorni fa, di aziende che a fronte del calo dei fatturati e delle vendite sono costrette a ricorrere a strumenti sindacali quali i contratti di solidarietà o comunque licenziamenti di parti importanti degli addetti. D'altronde, voglio dire, è un'equazione matematica, cioè nel momento in cui nel 2015 il calo del fatturato export è sopra il 10%, è inevitabile che poi alla fine questo si concretizzi in difficoltà che le aziende hanno nel poter continuare a andare avanti con le stesse modalità di prima. A tale riguardo vorrei fare una considerazione. Io ho letto, sempre mi faccio riferimento ai numeri e ai dati che ho avuto modo di leggere nei mesi scorsi, ho letto di un'analisi che è stata fatta da SMI, quindi presentata nel nostro distretto, che a fronte di un calo dell'export che veniva comunque certificato e questo non si può mettere in discussione in quanto, voglio dire, si tratta di codici doganali e quindi lì il calcolo è matematico. Per quel che riguarda invece i fatturati e il consumo in Italia di prodotti di calzetteria, ho sommato i due aumenti registrati nel 2014 e nel 2015, si arriva addirittura a un più 9% secondo questi dati. Ma io poi mi sono posto una domanda, è vero, forse, io non lo so se sia vero, immagino che lo sia, che i consumi in Italia di calzetteria sono aumentati del 9% negli ultimi due anni. La mia domanda a questo punto è, ma sono aumentati i consumi di chi? Cioè di calze prodotte nel nostro distretto o di calze prodotte all'estero? Perché evidentemente poi dopo il dire che un prodotto in Italia è più consumato rispetto a prima non significa automaticamente che si tratta di un prodotto che viene dal nostro territorio. Quindi evidentemente può essere che alcune marca o alcune tipologie di prodotti in Italia siano più consumati, ma evidentemente vedendo quello che sta succedendo nelle nostre aziende, la crisi, i licenziamenti e tutto quanto, evidentemente non sono i prodotti italiani, sono prodotti che vengono da altri paesi. Quindi insomma io prima di dare dati che non siano giustamente interpretati farei un po' più di attenzione, anche perché si rischia di creare poi un certo tipo di sentimento rispetto all'andamento delle cose che poi viene puntualmente smentito dai fatti, evidentemente. Sì, 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 certo. Chi sa da quale paese? No, va bene, non pensiamo sempre male. Ma dappertutto, nel senso adesso io non sto dicendo, lei fa riferimento ai prodotti cinesi. Sì, ma non sono pensando anche... Io penso che in Italia il consumo di calzetteria cinese sia estremamente basso rispetto a quello di altri paesi. Penso invece a paesi più vicini, quali ad esempio per dirle la Croazia, la Serbia, la Polonia, l'Ucraina stessa o il Portogallo, la Turchia, comunque paesi europei più vicini nel quale probabilmente anche alcune aziende italiane sono presenti e poi si portano i prodotti in Italia, li vendono in Italia ma non sono fatti in loco. Quindi evidentemente quello che dico io è che, come l'ho detto prima, quando si danno ufficialmente delle cifre, a mio avviso varrebbe la pena di approfondire un attimo per spiegare, poi provare a spiegare quale sia il senso esatto di queste cifre, anche a livello nazionale con i tanti numeri che stiamo sentendo adesso sull'occupazione e sulla disoccupazione. Stavo guardando i tanti messaggi che le sono arrivati. Ce n'è uno che mi incuriosisce, che dice si parla di Europa Mediterranea e finalmente la Germania ne ha paura, ha affermato Stefano. Non so se la porta fuori, però lei ha appena citato alcuni paesi europei anche. È Europa Mediterranea che effettivamente ha chiesto una maggiore flessibilità. L'Europa Mediterranea è sempre stata un unicum da un punto di vista culturale, da un punto di vista proprio del modo di fare, di produrre e di gestire le cose. Nel mio settore banalmente le posso dire che la tipologia di prodotti che viene consumata nell'Europa Mediterranea è diversa rispetto a quella che viene consumata nell'Europa del centro-nord. In più la stessa modalità distributiva per la quale nei paesi mediterranei esiste ancora il canale tradizionale, quindi grossista, il punto vendita e così via, cosa che è praticamente scomparsa nel nord dell'Europa. È vero, ci sono modalità anche proprio concrete e organizzative dei paesi che sono profondamente diverse. Quindi la presunzione di uniformare tutto a prescindere partendo da una visione germanica delle cose è abbastanza, come le dicevo, una presunzione proprio perché evidentemente significa andare a incidere profondamente sulle abitudini delle persone. Le dico banalmente, io ho la possibilità di andare spesso in Spagna. I ritmi di vita degli spagnoli sono completamente diversi dai nostri, cioè uno spagnolo va in ufficio alle nove, nove e mezzo, ne esce alle due, mangia pranzo e ricomincia a quattro, quattro e mezzo per finire alle otto e mezza di sera. Quindi già solo questo aspetto modifica completamente... Ma questa è anche una questione climatica all'interno dell'Italia stessa, posso assicurare. Io ho abitato in Sicilia, per esempio, e in Sicilia trovi aperti gli uffici postali fino alle dieci di sera. Sì, 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 no, appunto le sto dicendo. Sì, le dieci di sera. Apron più tardi però chiaramente, alle due si muore, ci sono 40 gradi all'ombra, quindi... No, no, ma questo è appunto quello che stavo dicendo, che da questi aspetti che sono semplicemente il ritmo di vita fino a proprio quella che è l'organizzazione interna di questi paesi, evidentemente è profondamente alternativa rispetto a quello che è, quello che accade, diciamo, dalla Svizzera in su. E quindi l'idea di... Quindi ci sono queste differenze. Le leggo un messaggio, vorrei che mi... Presidente, ci sono persone che dicono dati inesatti sulla produzione e sulla vendita. Dica qualcosa. Questo è un problema che solleviamo abbastanza spesso. Cioè, obiettivamente, danno delle... A parte che, questo lo farei non ridire, data la sua preparazione, ma è abbastanza normale che i medi nazionali confrontino dei dati assoluti tipo 5.000 lavoratori contro il 42%. Sì, ma è come dire se va più veloce il treno o più dolce la cioccolata. Non sono dati confrontabili. E poi anche errori proprio... Allora, evidentemente ci sono due aspetti, secondo me. Il primo aspetto è che in questo periodo c'è fame di pubblicare dati e quindi, evidentemente, magari gli organi di formazione, neanche approfondendo troppo il tema, corrono per accapararsi questo o quell'altro dato. Poi, ovviamente, io non voglio fare l'italiano solito dietrologo, però, evidentemente, spesso i dati vengono anche ad arte pubblicati o non pubblicati o accostati. Quindi, evidentemente, io ho appena, appunto, come le dicevo, io ho appena finito di dirle questa cosa, cioè io nel mio piccolo, nel mio mondo distrettuale, le dico dire che in Italia il consumo della calzetteria è vero, dire che in Italia il consumo è aumentato, scusi, è vero, dire che in Italia il consumo dei collant italiani è aumentato, non lo so, non credo. Quindi, vede che da un dato che potrebbe sembrare estremamente incoraggiante per il nostro settore, cioè in Italia il consumo dei collant è aumentato, che potrebbe essere vero, al dire che i produttori di Castel Goffredo per questo hanno venduto più calze, non è automatico. È una cosa fasulla. Fermiamoci un attimino con Alessandro Gallesi, presidente di Adici, torniamo tra un paio di minuti. Stiamo trascorrendo questa puntata di filo diretto con Alessandro Gallesi, che è il presidente di Adici, distretto della calza e dell'intimo, cioè un'associazione che riunisce produttori della calza, dell'Alto Mantovano, della Bassa Bresciana, dell'Est Bresciano, allora, soprattutto dell'Alto Mantovano comunque, stavamo parlando di questi dati, c'è anche Andrea che scrive, per esempio, cosa ne pensa del calo delle assunzioni, dice Andrea, che evidentemente dalla prima parte del messaggio che non vado a leggere, non ama tantissimo Matteo Renzi. Questo glielo leggo, questo messaggio, perché proprio oggi invece, viceversa, alcune agenzie dicono che è calata la disoccupazione. In realtà il dato Istat della settimana scorsa è che le assunzioni, quelle vere, cioè quelle a tempo indeterminato, non lo stagionale, sono calate il 29%. Sono calate il dato della settimana scorsa, esatto, poi sono aumentate licenziamenti al 7%, quindi la cosa che dice lei è proprio quella, ne sentivo parlare stamattina alla 7, sai il dibattito che c'è la mattina alla 7, sentivo proprio parlare di questa discrasia fra dati che quasi quotidianamente ci vengono proposti. Evidentemente, tra l'altro, questi dati della settimana scorsa e di oggi fanno riferimento a periodi diversi e quindi già di per sé non sono dati indicativi perché non sono fatti perfettamente confrontabili e hanno, peraltro, una spiegazione perché con il discorso della fine dell'effetto del job set, evidentemente chi ha assunto, avendo la libertà di licenziare, può anche licenziare. Il calo delle assunzioni è assolutamente giustificabile dal fatto che le aziende, per assumere, devono avere fatturato e assumere, evidentemente, potendo sfruttare delle agevolazioni che vengono date dal governo, può anche far gola appunto per il discorso del vantaggio economico che se ne ha. Evidentemente se è un'azienda però poi non ha bisogno di lavoratori perché, come dicevamo prima, non ha lavoro, non ha commissione. Il periodo dell'Iri, voglio dire, è un periodo passato, quello in cui si assumeva per dare posti di lavoro e questo non ce lo possiamo più permettere né come calzetteria, né come sistema Italia, purtroppo. Certo. Parliamo anche di sequestri, si ne parla ogni tanto, arrivano anche noi dispacci da finanza, sequestrate tot, prodotti, e ci sono anche nel mondo della calza. Partiamo da una cosa che è successa il mese scorso, qui vicino a noi, è stato, quindi non dico nulla di non già pubblico, sono state sequestrate 320.000 prodotti di calzetteria partendo da un controllo che è stato fatto a un banco del mercato di Desenzano. Dal banco si è risaliti al magazzino dove queste calze erano tenute, che tra l'altro è un magazzino di Mazzano, quindi anche quello abbastanza vicino, si trattava di calzini in realtà che non rispettavano la normativa europea sull'etichettatura. Dopo io poi particolari più specifici non ne ho se si trattasse solo di mancanza dell'origine della merce o della composizione tessile o di quale altra informazione. Evidentemente la cosa che, quindi da questo punto di vista io non posso che complementarmi con chi ha eseguito con la Guardia di Finanza di Desenzano che è quella che ha eseguito il sequestro. Quindi da questo punto di vista è evidente che da questo dato si può dedurre che nel mercato c'è una quantità di prodotti che non rispondono e non rispettano le norme che sono a tutela del cliente e quindi del consumatore perché è corretto che il consumatore abbia le informazioni sul prodotto che sta acquistando. Tra l'altro punto di vista però è la cosa che mi lascia molto perplesso. C'è una carenza normativa nel sistema Italia per la quale poi alla fine pagando una multa di poche migliaia di euro si può alla fine sbloccare la merce. Quindi la mia domanda è se è sufficiente, quali ulteriori controlli sono stati fatti visto che questi prodotti non erano di origine italiana. Sono stati fatti altri controlli cioè voglio dire si è mandato a un laboratorio per poter verificare cosa ci fosse veramente dentro questi prodotti quindi al di là della carente etichettatura pare addirittura inesistente si è poi andato a verificare se questi prodotti contenevano quelle sostanze che sono proibite per legge e così via. Questo non è una critica che sto facendo assolutamente a nessuno. sto dicendo che probabilmente il sistema normativo italiano parte dando alle forze dell'ordine delle possibilità per controllare il mercato ma poi nel momento in cui si dovrebbe concretizzare il valore del sequestro quindi dire esattamente cosa c'è che non va e probabilmente c'è un buco normativo per cui con poche migliaia di euro si riesce a sanare il problema non è mai rimettere in circolazione la merce. Insomma praticamente esistono i condoni anche in questo settore praticamente. Un messaggio dobbiamo combattere i laboratori abusivi che producono calze e noi in questo modo non siamo competitivi dice un ascoltatore però abbiamo visto anche che c'è anche una produzione europea sicuramente l'ascoltatore fa riferimento alla realtà nostra locale quindi so da questo punto di vista che le istituzioni mantovane dal prefetto ai principali rappresentanti delle forze dell'ordine stanno lavorando proprio per poter creare nei prossimi mesi lavorare come dire incrementare l'attenzione su questi su questi laboratori in modo tale che si indirizzino verso il rispetto di normative perché non è possibile accettare il fatto che all'interno di una comunità produttiva come la nostra c'è chi rispetti le regole e chi assolutamente non le rispetta anche se poi il discorso sui laboratori cinesi è molto più grande. Questo è un messaggio della calza a livello mondiale sono in crescita solo l'Europa non va Io questo dato ce l'ho nel senso che la conferenza abbiamo fatto a maggio abbiamo avuto un'interessante proprio analisi fatta da un istituto di ricerca di Bologna Prometeia che dimostrava come ci sono nel mondo tutta una serie di paesi che stanno aumentando le importazioni di calzetteria le dico banalmente alcuni paesi del Nord Africa quindi vicini a noi o altri paesi il problema è che l'importazione in questi paesi non è italiana cioè la importano da altri paesi quindi voglio dire il Marocco tanto per citarne uno che è il primo che mi viene in mente è un paese che sta aumentando le importazioni di calzetteria dall'Europa ma non sono italiane quindi evidentemente pensiamoci chiaro il Marocco è nell'orbita francese e tutto quanto però la calza comunque chiedono il mercato aumenterà o no insomma diciamo che questa risposta si collega alla domanda precedente cioè io ho sempre detto che non esiste l'estero ma esistono gli esteri quindi in alcuni mercati in questo momento c'è sicuramente un incremento del nostro prodotto dal Kazakhstan all'Azerbaijan quindi faccio riferimento a mercati che magari non sono mai entrati nella nostra attenzione evidentemente ci sono mercati più maturi e consolidati che sono quelli europei classici dove non prevedo grandi aumenti del nostro prodotto se non legati magari a prodotti specifici tecnologici innovativi che possono attirare l'attenzione oppure a traine effettuati dai grandi designer della moda che ovviamente sono nell'abbigliamento Elia le scrive Gallesi lei è veramente bravo e preparato però dobbiamo vincere sul mercato per esistere ho staccato il perve perché non fossi confuso a parte il complemento voglio dire di cui ringrazio Elia sì bisogna 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 lavorare e soprattutto bisogna superare la difficoltà che c'è a livello locale ma io parlo anche a livello del sistema Italia di relazionarsi tra produttori tra imprenditori perché da soli non riusciamo ad affrontare un mondo che è diventato enorme banalmente la globalizzazione non significa niente ma se prima il tuo mercato di riferimento era Svizzera adesso può diventare il Kazakistan basta prendere una cartina e vedere dove è il Kazakistan dopodiché scopri che in Kazakisi ci sono 5 milioni di persone ricchissime perché è un paese che cammina sul petrolio e sull'uranio se non sbaglio però un'azienda italiana prende una valigia andare in Kazakistan arriva a Stanà e poi lì cosa fa o ci si va insieme o ci si va insieme e quindi voglio dire quella è la strada Presidente riassumo tutti i messaggi perché stiamo esaurendo il tempo io so che lei voleva anche parlare di un sindacato allora saluto un ascoltatore il quale ha detto che bisogna fare le riforme vere e non quelle false per abbassare le tasse sul lavoro c'è Nicoletta che manda un lunghissimo messaggio nel quale fondamentalmente dice il problema è che ai governi italiani non gli importa niente del manifetturiero se le guarda tavoli in piedi expo eccetera eccetera cioè solo mega edilizia fondamentalmente la cosa bella è che in Italia il 98% delle imprese sono piccole e medie imprese solo il 2% sono grandi imprese io faccio una domanda retorica secondo voi la politica nazionale guarda il 98% anche voglio dire da parte delle organizzazioni come quelle degli imprenditori o i sindacali e così via si occupa molto di più dei problemi dell'ILVA tanto per dirvene una o dei problemi dei 105 distretti industriali italiani la domanda è retorica perché evidentemente della piccola media impresa dubito che ci sia che ci sia un'attenzione e poi c'è Franco che se la prende con i padroni li chiama perché lascia una casa delle persone che hanno lavorato per una vita non siamo dei numeri visto questo sfogo di Franco parliamo dei sindacati io so che lei voleva brevissimamente abbiamo un minuto quando leggo messaggi come quello di Franco onestamente sono molto rattristato perché noi non siamo un territorio di grande industria quindi in quasi tutte le imprese c'è sempre stato un rapporto personale anche amicale tra datore di lavoro e dipendenti quindi il discorso del padrone e dell'operaio da noi non è che sia mai stato così voglio dire inquadrabile come magari lo è in certe mega multinazionali penso lo dico con tutta onestà penso che per molti imprenditori sia un sacrificio enorme lasciare a casa le persone proprio per un fatto culturale perché da noi l'impresa è sempre stata vissuta come una famiglia e quindi certi passaggi penso siano stati dolorosi e sono dolorosi anche per gli imprenditori però lei mi ha lanciato voglio dire il sasso io volevo solo fare un riferimento ad alcuni articoli che ho avuto modo di leggere nei mesi scorsi con riferimento in particolare alla situazione delle cooperative che dovrebbero nascere sul territorio da parte di un sindacato che ha continuato a a mio avviso spingere in modo non corretto questa immagine di un territorio in cui esistono io cito il numero l'ultimo numero che ho letto 1200 posti di lavoro disponibili che potrebbero essere occupati dalle nascenti cooperative eccetera io sono da un lato irritato da questa cosa perché dare informazioni di questo genere è fuorviante può creare delle false aspettative e soprattutto non è corretto dal mio punto di vista perché è vero che in alcuni segmenti della filiera sono stati persi molti posti di lavoro in parte per la delocalizzazione in parte perché non c'è lavoro in parte perché sono stati diciamo occupati dai laboratori cinesi che è un discorso il pensare che però in una situazione come quella di oggi basti la bacchetta magica perché domani mattina i 1200 o le 1200 lavoratrici possono essere riassunte da nascenti cooperative di cui ad oggi non si ha nessuna notizia lo trovo onestamente poco corretto benissimo grazie moltissimo al presidente di Adici Alessandro Gallesi grazie grazie arrivederci ora esatta sono le 11